Musica Continua a paternola la serie di incendi dolosi e danni delle auto stanotte altre due vetture date alle fiamme in via Giovanni Battista Nicolosi e via Chiesa Nuova. Musica Conferenza dei capi gruppo questa mattina per convocare una seduta straordinaria di consiglio comunale sul tema della sicurezza in città. Un 44enne a Dranita è stato denunciato dalla polizia per aver tentato di mettere in atto la cosiddetta truffa dello specchietto ai danni di un'automobilista di Catania. Nel tentatore a giro coinvolto anche un ragazzino di 13 anni. Musica Nell'interrogatorio di garanzia a cui è stato sottoposto oggi il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo ha respinto le accuse. Barbagallo ha poi annunciato le sue dimissioni da primo cittadino. La danza come strumento per esprimersi senza barriere. La storia di Sofia Aloisi, 18enne paternese, sulla sedia a rotelle dalla nascita, dimostra come tutti possono ballare ad accompagnarla a Viaggio Pagano. La coppia artistica paternese dei 2.0 vincitori del premio popolare del concorso Canoro, la Milano Sanremo della canzone italiana, è stata premiata questo pomeriggio a Palazzo Alessi. Musica Buonasera e bentrovati per questa edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca nera con il nuovo ride compiuto dai piromani questa notte. Il terzo ride in meno di una settimana, 13 le auto danneggiate e totalmente distrutte dal fuoco. Si cercano tre persone, si tratterebbe di due ragazzi e una ragazza. Ad indagare sul fatto sono i carabinieri della compagnia di Paternò questa notte, l'azione è scattata addirittura in pieno centro cittadino. Due, come detto, le auto distrutte, è stata danneggiata anche la facciata di un'abitazione. Vediamo. Con quelle di stanotte sono 13 le auto, tra danneggiate e distrutte, interessate dai ride notturni in quest'ultima settimana. Questa notte i piromani sono tornati a colpire distruggendo due auto. D'hanno reso ancora più ingente per il fatto che uno dei due incendi ha gravemente compromesso la facciata di un'abitazione quasi completamente annerita e i cui infissi sono andati distrutti. Il primo incendio ha coinvolto una Fiat Panda in viaggi binicolosi nel tratto della traversa. Auto completamente distrutta, come si vede dalle immagini, rimasta ancora questa mattina parcheggiata tra lo stupore dei passanti. Altro attacco avvenuto a poca distanza dal primo. Questa volta siamo in via Chiesa Nuova e a prendere fuoco è stata una Fiat 1. Come detto, questa volta il bilancio è stato anche peggiore. L'incendio infatti ha gravemente danneggiato la palazzina sotto la quale l'auto era stata parcheggiata. Da quanto si apprende, le segnalazioni ai vigili del fuoco per gli incendi appena scoppiati sono arrivate stanotte poco dopo le 23.30, una dopo l'altra. Sembra evidente dunque che i piromani abbiano colpito le due auto nello stesso lasso di tempo, probabilmente ad una manciata di secondi di differenza, giusto il tempo di svoltare l'angolo e percorrere in tutto non più di 200 metri. I piromani potrebbero aver colpito prima in via Chiesa Nuova e poi in via GB Nicolosi ed in vine essersi dileguati. Non è chiaro come i piromani stiano agendo. È possibile che stiano cospargendo di benzina la parte esterna delle auto oppure possano aver rotto uno dei finestrini per gettare dentro l'auto una bottiglia incendiaria. Le fiamme che stanotte hanno distrutto la Fiat Uno e la Panda sembrano far propendere verso questa direzione. Ciò che è impressione è il perché di una serie così ripetuta di incendi dolosi. Cosa c'è dietro queste azioni? Racket delle istorsioni, usura, vandalismo, le piste restano tutte aperte e per i carabinieri il compito si prospetta piuttosto arduo. Indispensabile in questi casi che la città faccia il suo ruolo e reagisca contro questa banda di criminali. Anche una segnalazione, resa in forma anonima, può dare un valido contributo alle indagini. E in riferimento ai fatti che stanno seminando la paura in città, questa mattina si è tenuta a Palazzo Alessi una conferenza dei capigruppo per decidere la convocazione di una seduta del Consiglio Comunale straordinaria ed urgente. Il Presidente del Consiglio Comunale, inoltre, Filippo Sambataro, presenta l'iniziativa e risponde alle polemiche politiche dei giorni scorsi. Vediamo. Presidente Sambataro, oggi una conferenza dei capigruppo proprio per parlare di una seduta del Consiglio Comunale straordinaria sulla sicurezza in città. 13 auto distrutte in meno di una settimana, rapine, insomma, è il momento che anche la politica prenda la sua posizione. Una sintesi di quello che le ha detto, 13 macchine bruciate nel giro di una settimana con danni anche ai palazzi circostanti, non ultimo quello di stanotte che ha danneggiato in maniera vistosa e grave anche una facciata di una palazzina in zona Chiesa Nuova, in via Chiesa Nuova. E quattro furti perpetrati nel giro di due giorni, praticamente. Quindi una situazione emergenziale, una situazione che richiede una presa ben precisa, forte, anche della politica. Su questo tema abbiamo convocato, assieme al Sindaco, un consiglio straordinario. Oggi ci sarà, come diceva, la conferenza dei capigruppo e vedremo quando convocarlo. Sicuramente a questo punto penso dopo le elezioni politiche, quindi fra lunedì e martedì. Vediamo ora cosa decideranno i capigruppo in merito a questo. Una presa d'atto politica importante a tal proposito come non ricordare la polemica proprio in questi giorni sulla mancata convocazione del Consiglio Comunale. Alcuni consiglieri di opposizione hanno firmato questo comunicato stampa sostanzialmente contro la sua persona. Forza Italia però si è smarcato e ha disconosciuto questo comunicato. Lei come risponde a queste accuse? Io sostanzialmente non volevo rispondere a queste accuse perché sono accuse senza senso e motivate. Me lo chiede e risponde. È un comunicato stampa, è un pastrocchio, è un pastrocchio fra ignoranza su quelle che sono i diritti e i doveri e le procedure del Consiglio Comunale. È un pastrocchio anche per quanto riguarda la correttezza politica. Come diceva lei, era stato coinvolto anche il gruppo di Forza Italia che nel giro di 12 ore si è smarcato da questo comunicato stampa, non condividendo né contenuti né metodi e soprattutto non essendo stato mai coinvolto nella decisione della stesura di questo documento. Per quanto riguarda il documento che è stato scritto, insomma, come ha detto lei, è un attacco bel e buono nella mia persona e nei miei confronti. I consiglieri di minoranza e tutti i consiglieri devono avere coscienza di quello che sono i propri diritti e il diritto fondamentale di ogni consigliere è il diritto di iniziativa. Quindi qualsiasi consigliere può avere, può, arrogando questo diritto, può richiedere un Consiglio Comunale. Finora ho ricevuto solo degli ultimatum che non sono stati conseguenziali. Ultimatum caduti a vuoto. Il consigliere di Stefano un paio di settimane fa aveva dato come ultimatum il sabato per la convocazione dei consigli, ma dopo quel sabato ne sono passati altri e non è arrivato nulla. Quindi conseguenzialità significa anche avere coscienza dei propri diritti, diritto di iniziativa. Insieme ad altri cinque consiglieri poteva convocare un Consiglio Comunale e potevamo discuterlo liberamente senza fare tutta questa polemica. E ancora la cronaca nera. Giancarlo Longo, l'ex pubblico ministero di Siracusa, arrestato il 7 febbraio scorso con l'accusa di associazione a delinquere, falso, corruzione, va ai domiciliari, lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Messina. Secondo la procura della città dello stretto, che ha chiesto e ottenuto l'arresto, Longo, che mesi fa è stato trasferito al Tribunale civile di Napoli, avrebbe pilotato fascicoli di indagine per favorire i clienti di due avvocati siracusani, Piero Amara e Giuseppe Calafiore, anche loro arrestati. A differenza dell'ex pubblico ministero, Amara e Calafiore invece restano in carcere. I giudici hanno respinto infatti le loro istanze di liberazione. E ancora la cronaca. Un 44enne di Adrano è stato denunciato dalla polizia per aver tentato di mettere in atto la cosiddetta truffa dello specchietto ai danni di un'automobilista di Catania. Nel tentatore a giro ha preso parte anche un ragazzino di Adrano di appena 13 anni. Vediamo. Tentativo in trasferta della truffa dello specchietto per un'adanita di 44 anni, bloccato però dalla polizia che lo ha denunciato. Con lui ha agito anche un ragazzino di 13 anni. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Catania. Il tentativo della truffa è fallito. A seguito della telefonata effettuata dalla vittima, al 112, ha fornito dettagliate descrizioni dei due individui che avevano tentato di mettere in atto la truffa dello specchietto. La vittima ha raccontato che mentre stava transitando con la sua macchina in via Coviello a Catania ha sentito un forte botto e dopo alcune centinaia di metri è stata affiancata da un'altra auto i cui occupanti l'hanno invitata a fermare in mezzo in quanto a loro dire aveva colpito e danneggiato lo specchietto retrovisore. La vittima ha riferito ancora che i due truffatori gli hanno mostrato uno specchietto rotto e poi chiesto di risarcire subito il danno. Prima hanno preteso una somma di 137 euro ma dopo le perplessità manifestate sempre dalla vittima erano disposti ad accontentarsi di 50 euro. Avendo capito che potesse trattarsi di un raggiro, l'automobilista ha preso del tempo rinviando ad un successivo momento l'eventuale pagamento ma sul posto sono giunti i poliziotti che hanno bloccato i due indicati dalla vittima della truffa si tratta di un pregiudicato di Adrano peraltro sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali e un ragazzino di 13 anni, anche lui di Adrano. Per quesito il loro veicolo gli agenti della volanda hanno rinvenuto uno specchietto retrovisore e danneggiato gli alcuni ernesi atti allo scasso e così per il 44enne Adanita è scattata la denuncia per truffa aggravata e possesso di strumenti atti allo scasso. Il minore che ha dichiarato di non frequentare più la scuola dalla quarta elementare è stato riaffidato ai genitori e segnalato per quanto accaduto al Tribunale dei Minori. E adesso ancora la cronaca con fatti che riguardano anche la politica a parlare è Di Maio del Movimento 5 Stelle che in riferimento a 5 sindaco del Movimento dice che 5 appunto non è il sindaco del Movimento e Di Maio fa questa affermazione a margine della manifestazione che si è svolta a Palermo dove ha parlato e ha preso le distanze dal sindaco di Bagheria, appunto Patrizio Cinque per cui ieri la procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio. Il sindaco di Bagheria è accusato di turbativa d'asta, abuso d'ufficio e violazione del segreto d'ufficio insieme ad altri 19 persone tra imprenditori, un vigile urbano e funzionari comunali. Dopo la notifica dell'obbligo di firma si era autosospeso dal Movimento. Restiamo in tema come detto di cronaca e politica perché nell'interrogatorio di garanzia a cui è stato sottoposto oggi il sindaco di Arcireale Roberto Barbagallo ha respinto le pesanti accuse che lo hanno portato in carcere. Barbagallo ha poi annunciato le sue dimissioni da primo cittadino. Vediamo il servizio. Roberto Barbagallo si è dimesso da sindaco di Arcireale lo hanno reso noto i suoi legali al termine dell'interrogatorio di garanzia che si è tenuto in carcere dove attualmente si trova l'ex primo cittadino acese arrestato lo scorso 23 febbraio con l'accusa di corruzione turbativa d'asta nell'ambito dell'operazione Sibilla condotta dalla Guardia di Finanza. Una decisione è quella di lasciare la poltrona di primo cittadino di Arcireale per sensibilità istituzionale. Barbagallo, 42 anni, era stato eletto sindaco di Arcireale nel 2014 ed era stato appoggiato al ballottaggio da liste civiche. Nel corso dell'interrogatorio che si è tenuto in carcere ha dato al GIP Giovanni Cariolo e al sostituto procuratore Fabio Regolo una diversa e opposta rappresentazione dei fatti che gli sono stati contestati. Barbagallo, secondo l'accusa per favorire la campagna elettorale del deputato regionale Nicola D'Agostino, che ricordiamo non è indagato, avrebbe dato in carico ad un luogotenente della polizia locale, Nicola Urso, ai domiciliari nell'ambito della stessa operazione di avviare dei controlli amministrativi nei confronti di due imprenditori di Acireale con lo scopo di avvicinare Barbagallo per evitare sanzioni. Quest'ultimo poi avrebbe chiesto in cambio l'appoggio elettorale per il suo referente politico alle recenti elezioni regionali. Adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ci ritroviamo in studio subito dopo. Abbatti la tua bolletta! Con un sistema fotovoltaico sul tetto della tua casa, puoi catturare l'energia del sole e utilizzarla per la tua abitazione. Affidati a personale esperto, scegli Energreen Power. In questo periodo da Energreen Power, grandi promozioni! Impianto fotovoltaico 3 kilowatt a chiavi in mano, 3.900 euro più IVA al 10%. Impianto fotovoltaico 3 kilowatt a chiavi in mano, compreso solare termico, con boiler 300 litri, con formula ESCO, totale 4.900 euro più IVA al 10%. Per azienda impianto chiavi in mano da 20 kilowatt, 20.000 euro più IVA al 10%. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure 340 33 57 408. Si eseguono manutenzioni, lavaggio moduli e controlli, oltre a forniture su impianti fotovoltaici esistenti. Energreen Power, con Trada 3 Fontane Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it Ed eccoci rientrate in studio. Ryanair annuncia che Trapani Birgi non tornerà ad essere la prossima estate una base operativa della compagnia low cost irlandese. Ryanair, si legge nel sito ufficiale della compagnia, ha confermato oggi che la sua ex base a Trapani, chiusa ad ottobre del 2017, non sarà riaperta a seguito della decisione dell'aeroporto di Trapani di annullare il bando di gara per la promozione delle rotte. Purtroppo questo si tradurrà con la perdita di 18 rotte, circa 1,1 milioni di passeggeri all'anno e 820 posti di lavoro in loco. La danza come strumento per esprimersi senza barriere. La storia di Sofia Aloisi, 18enne paternese sulla sedia a rotelle dalla nascita, dimostra come tutti possono ballare ad accompagnarla il ballerino Biagio Pagano. Vediamo. Sarà difficile, diventa grande, ma sarà come verete l'essere. Metterò i giochi, non vedrò la crescita. Metterò i giochi, non vedrò la crescita. No, no, in una scuola di danza questo pomeriggio perché vi vogliamo raccontare una storia particolare. La storia è quella di Sofia Aloisi. Ciao Sofia. Ciao. Allora, Sofia ha 18 anni e da qualche tempo Sofia Balla. Balla insieme a Biagio Pagano che è il suo maestro, giusto Biagio? Sì, giustissimo. Allora, raccontiamo la storia di Sofia perché abbiamo deciso di raccontarla per mostrare come la disabilità non può essere e non deve essere un ostacolo per quanti vogliono esprimersi attraverso la danza, attraverso la musica. E Sofia è riuscita attraverso la musica ad esprimersi. Sofia, ci racconti da quanto tempo balli e che cos'è per te la musica? Allora, per me la musica è liberazione di tutto, liberazione di tutto ciò che è negativo. Io quando ho qualche cosa che è negativo ho ascoltato la musica. Ascolti la musica e balli. Da quanto tempo balli? Sì, poi ho due anni, ho cominciato a Macchio. Ho cominciato a Macchio e... È stato bello per te. Bellissimo. Bellissimo. Quello che volevo chiederti, immagino che non sia stato facile all'inizio. La prima lezione con Biagio forse hai avuto un po' di paura. Paura, diciamo, no, perché io ho sentito che quando ho parlato con lui, in mezzo a Macchio ti dico un feeling, quindi diciamo, paura, no, però che è il colore non mi conosceva, io non conosco i palori, quindi mi sono occupato un po' in difficoltà, diciamo. Però c'è stato questo feeling e alla fine siete riusciti. Tu hai ballato anche con altri bambini del gruppo e con loro come sono con te? Eh, loro sono anche in bacia, mi rispettano. Ti rispettano e immagino che ti vogliono anche bene, no? Sì. Allora, Biagio, tu hai deciso di scommetterti in questa avventura con Sofia a grandi soddisfazioni, immagino? Assolutamente sì. Abbiamo iniziato a maggio dell'anno scorso. Io ho conosciuto Sofia all'istante della prima lezione, proprio in quell'istante ho conosciuto Sofia e la difficoltà appunto che dicevate prima si è creata dal fatto che io non avevo altre esperienze con ragazzini magari sulla sedia rotelle e quindi ho avuto un po' di paura, non sapevo magari come comportarmi. Però su questo devo dire che la mia forza è stata Sofia perché mi ha aiutato tantissimo e poi da lì è stato tutto facile. Dalla prima lezione ad oggi non solo ho trovato una bravissima ballerina perché lei riesce a trasmettermi tutto il suo amore per la danza e per la musica più di una qualsiasi altra ballerina che magari può praticare questo sport in maniera molto più stendice, diciamo. E appunto ho trovato un'ottima ballerina e soprattutto un'ottima amica perché mi sta vicino, è sempre presente, noi oltre la danza messaggiamo, ci sentiamo e quindi ho trovato una persona meravigliosa e sono felicissimo. Allora noi vi auguriamo di vincere dei premi magari in qualche competizione per voi in bocca al lupo? Crepi il lupo e volevo dire che già abbiamo vinto il campionato, il trofeo regionale a gennaio, abbiamo fatto la nostra prima gara con i bambini e abbiamo preso il primo posto, vero Sofia? Allora immagino soddisfatta per questa vittoria. Sì, molto. Ecco, alle persone, soprattutto ai ragazzi che hanno una disabilità e che magari per questa disabilità si limitano a fare qualcosa, tu che messaggio vuoi lanciare? Allora, a tutti gli ragazzi che vivono la cica picca, io direi che perché un cogno non è la chiara mai, perché prima o poi quale coca, quale coca verrà? Cacchè? Continua così Sofia. Cacchè. Questa mattina presso la biblioteca comunale Giovan Battista Nicoloso, a Paternò si è tenuta la presentazione del progetto Territorio in Alternanza. Il progetto nasce dall'azione sinergica di Comune Associazione Proloco e il Liceo De Santis di Paternò. Infatti nell'ottica condivisa di voler contribuire alla promozione culturale e turistica del territorio che si è arrivati alla sottoscrizione, come detto, di questo protocollo d'intesa che prevede l'apertura dei siti culturali paternese di maggior rilievo, e cioè il Castello Normanno, la Casa della Cantastoria, il Museo Archeologico, il Museo della Civiltà Contadina e la Galleria d'Arte Moderna. La coppia artistica paternese dei 2.0, vincitori del premio popolare del concorso Canorola Milano-Sanremo della canzone italiana, sono stati premiati questo pomeriggio a Palazzo Alessi. Vediamo. Siamo a Palazzo Alessi a Paternò con me i 2.0 che sono tornati vittoriosi da Sanremo. Ci eravamo incontrati prima che voi andavate via, insomma, ve lo aspettavate? Beh, che cosa ti devo dire? In tutta sincerità sì, ce l'aspettavamo, nel senso che siamo stati i primi per tutte le settimane, per cui più che ce l'aspettavamo alla fine era una speranza proprio di poter confermare quello che era stato il percorso fino a lì raggiunto. Sebbene ci fosse un grande timore di non farcela, perché ovviamente la lotta non è stata senza esclusione di colpi, ecco, lo possiamo dire. Però, insomma, siamo stati contentissimi e ne accogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro i quali ci hanno votato, sostenuto e hanno creduto in noi. Ecco, lo ricordiamo, voi avete vinto come la Milano-Sanremo, come voto popolare, quindi su Facebook siete stati più cliccati in assoluto. Sì, sui social non ce l'aspettavamo questo risultato, sinceramente, dal social e tutte queste visualizzazioni e questi mi piace che abbiamo avuto in quella settimana di Sanremo. Ecco, io l'avevo detto, però, quando siete venuti in televisione la canzone è molto bella e, insomma, la gente ha risposto così come doveva. Eh sì, l'avevamo già detto, questo in effetti è un premio che non vinciamo noi da soli, questo è un premio di noi tutti, ecco perché appunto volevamo ringraziare, perché sì, la canzone è bella, però c'è bisogno del sostegno, soprattutto per i musicisti oggi nella realtà discografica odierna, non è facile l'affermazione. E avere un risultato di questo tipo è importante perché è stato, posso dire oggi, lo strumento attraverso il quale poter dire ai discografici, ok, il pubblico ci sostiene, quindi ora è giusto che ci diate un po' di considerazione. Che cosa c'è nell'imminente futuro dei 2.0? Abbiamo tantissime novità, avendo avuto un po' di esperienza lì anche a Sanremo, quindi musicalmente parlando lì, tra virgolette, siamo cresciuti un po'. Per quest'estate abbiamo un bel po' di sorprese. Allora, in bocca al lupo, questa sera Paternò vi dà questo importante riconoscimento. Sì, ringrazio l'Associazione Arte e Spettacoli, ringrazio soprattutto l'On. Calvagno per essere intervenuto. Alla tua città cosa vuoi dire? Eh, grazie a tutti, sono stati davvero tutti quanti al nostro fianco. Barbara Cassisi, per Arte e Spettacoli, immagino grande soddisfazione per la vittoria dei 2.0? Sicuramente sì, sono molto orgogliosa per il risultato che hanno raggiunto i ragazzi. Cosa dire? È un trampolino molto importante a livello discografico. E infatti, diciamo che della vittoria che hanno avuto i ragazzi, sicuramente nascerà un bel progetto, un concerto all'estero che non dirò per adesso, e il cantante Sanremo for the world, cioè andranno un po' in giro per il mondo. La richiesta c'è stata. Ecco, voi avete spinto tantissimo e alla fine, insomma, il risultato è arrivato, questa vittoria importante. È arrivato perché effettivamente il duo è bravo. Sono musicisti, sono compositori, sono cantautori, per cui conoscono la musica da quando erano piccoli. Il mio mestiere, il nostro mestiere, proprio dell'Associazione Arte e Spettacoli, infatti con la vicepresidente Deborah Finocchiaro e Jessica Finocchiaro, ci spendiamo a livello regione Sicilia e a livello nazionale e adesso, come dicevo, anche a livello internazionale, proprio per cercare i talenti che meritano dei palchi che almeno gli diano quella soddisfazione, perché poi del resto per un cantante, per un artista, la soddisfazione è il pubblico. E in più, infatti, secondo me, la soddisfazione più grande è stata proprio questa. Il video dei ragazzi del 2.0 ha superato le 30.000 visualizzazioni e non è da poco, è inaspettato completamente. Like non so quanti, condivisioni a più non posso, ecco perché abbiamo deciso oggi insieme alle mie colleghe di dare un piccolo riconoscimento e per questo ringrazio l'amministrazione comunale di Paternò che lo ha permesso perché, insomma, hanno portato il nome di Paternò abbastanza un po' a livello nazionale dappertutto. Siamo molto contenti e orgogliosi ancora una volta che ci siano delle persone di Paternò che vadano avanti. Questi ragazzi sono rimasti tra i 15, sono stati scelti tra 15 gruppi a livello nazionale, hanno avuto più di 30.000 visualizzazioni e non potevano essere presenti a questo premio al merito a questo gruppo di Paternò che sta andando avanti e porta avanti il nome del nostro paese. Questa può essere, insomma, l'occasione anche per dire ad altri giovani di scommettersi e crederci. Sì, assolutamente sì, perché io credo che ogni militanza, ogni volta che una persona suda per qualcosa, ci mette impegno, dedizione, poi i risultati vengono. Chiaramente non sempre, chiaramente non subito, bisogna assolutamente essere costanti e poi magari qualche volta i sogni si realizzano. E con questo servizio è tutto, questa edizione del nostro telegiornale si conclude qui. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima edizione. Buona serata. Buona serata. Buona serata.